salta un piede è rigido questo oh 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 è andata è andata davvero oh quasi oh 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 ti amo ha filmato per il tempo oh penso che cambiava oh va bene oh questo può essere quel cazzo cioè non puoi farlo dai oh 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 basta ah quasi oh oh è mancata guarda vai oh 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 vai 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 Grazie.